torna foto chi scatta ci eravamo lasciati con un fotografo un bel personaggio renato marcialis che ci ha fatto sognare con le sue fotografie le sue foto pennellate hanno riscosso davvero un grande un grande successo molto appassionanti vi avevo promesso che oggi avremo incontrato un avvocato e cercheremo di capire che cosa davvero c'entra un avvocato in una trasmissione di fotografia il nostro ospite è l'avvocato federico montaldo specializzato in diritto civile commerciale ma anche in diritto della fotografia è proprio questa sua specializzazione lo ha portato qui a foto chi scatta l'avvocato montaldo non è solo un avvocato è anche un fotografo pubblicato diversi libri fotografici ma anche pubblicato un manuale di sopravvivenza per fotografi questo è il titolo edito da emuse in cui vengono sviscerati spiegati gli obblighi dei fotografi ma anche i loro diritti e proprio di questo vogliamo parlare in questa puntata e quindi benvenuto all'avvocato federico montaldo benvenuto davvero federico grazie di essere qui con noi grazie a voi dell'invito ho accennato al motivo per cui un avvocato è presente in una trasmissione per per fotografi il libro che è scritto è il manuale di sopravvivenza per questi fotografi dove all'interno si fissano quelle che sono le regole che seguono e che devono essere seguite per una fotografia consapevole io faccio spesso un esempio da cui poi ti passerò la parola l'esempio che porto è quando ascoltiamo una canzone alla radio indipendentemente dal fatto che questa canzone sia di qualità sia piacevole o non lo sia assolutamente per nulla e noi sappiamo che questa canzone è tutelata da delle norme che tutelano colui che le ha che ha creato quella quella melodia in fotografia è la stessa identica cosa ci sono tutte queste tutele no non ci sono tutte queste tutele ci sono delle tutele ma sono in gran parte come dire demandate all'attività stessa del fotografo per lo più quando è un fotografo solitario singolo se invece un fotografo che appartiene a un'agenzia normalmente l'agenzia specialmente le agenzie di stampa le fotografie molto grandi molto anche potenti molto organizzate strutturate hanno degli strumenti che consente loro di per esempio indagare il web e trovare fotografie che qualcuno abusivamente scaricato dal web e utilizzato senza aver pagato i relativi diritti quindi diciamo la tutela è differenziata un po in base a il tipo di fotografo il tipo di attività che che viene fatto perché comunque i diritti ci sono il problema poi molto spesso ma non solo in fotografia è quello di riuscire a farli a farli valere ma tornando a quello che dicevi inizialmente rispetto a cosa c'entra un avvocato con la fotografia c'entra e c'entra sempre di più perché io anche faccio parte tra l'altro di un'associazione fotografica e devo dire che le domande che mi vengono fatte come fotografo e come ma soprattutto come avvocato con riferimento a una serie di profili sono sempre più frequenti e sono effettivamente basate sull'esistenza di una attenzione e perfino esagerata a mio modo di vedere rispetto ai profili legali della fotografia dovuto al fatto che mentre una volta che fotografava era qualcuno che aveva una macchina fotografica a pellicola e quindi non erano poi così tanti fotografi includendo anche gli amatoriali oggi chiunque ha uno smartphone in mano realizza fotografie chiunque tanto è vero che le fotografie sono un numero qualcuno ha provato anche a calcolarlo sono un numero impressionante in un minuto vengono scattate più fotografie di quando siano state fatte nell'intero diciannovesimo secolo quindi non il novecento l'ottocento ma tenuto conto che la fotografia è nata intorno alla metà dell'ottocento si può immaginare che proporzione stiamo parlando e sono fotografie che circolano che viaggiano sul web ormai le fotografie per lo più non vengono più stampate ma vengono condivise attraverso i social attraverso la mail attraverso tutti gli strumenti della tecnologia digitale questo ovviamente si porta dietro una serie di conseguenze perché l'impatto di una fotografia può avere conseguenze e soprattutto perché ha una come dire uno sviluppo è una capillare diffusione in qualunque in una frazione in secondo può raggiungere chiunque in tutto il mondo quindi evidentemente tutti questi profili incidono su far rendere più sensibile l'attenzione delle persone a essere fotografate per esempio perché poi si ritiene probabilmente anche sbagliando che no ci possano essere delle ripercussioni su di sé ma anche un malinteso senso della privacy però questo genera effettivamente una grande attenzione ed è per questo che ho ritenuto a un certo punto alla fine tutte queste domande di raccoglierle tutte insieme e rispondere il più possibile documentandole con casi pratici in questo manuale che ho chiamato manuale di sopravvivenza per fotografi di cui esce appena uscita la seconda edizione che cerca di rispondere un po a tutte queste domande sia da parte del mondo dei professionisti ma anche del mondo dei degli amatori poi sono così differenti poi le esigenze parlando del mondo dei professionisti so che esistono delle categorie che vengono che definiscono le varie fotografie una di queste la prima è quello che viene viene definita la fotografia semplice un concetto che da fotografo faccio sempre molta fatica a digerire perché non riesco veramente a capire chi possa essere colui che decide se una fotografia è semplice o non lo è ci puoi dare delle informazioni in merito proprio a queste categorie e farci anche capire che che cosa proteggono che cosa tutelano queste categorie certo diciamo che in realtà le categorie sono tre diciamo la prima è la fotografia documentale però non ha nessun rilievo particolare perché il fotografo non ha un ruolo particolare come come una macchina fotocopiatrice non so come dire la semplice riproduzione di un oggetto di un documento non la consideriamo neanche comunque non dà nessun diritto invece la differenza è questo dualismo famoso tra famoso per noi che ci occupiamo di fotografia voglio dire tra fotografia semplice e fotografia creativa o fotografia d'autore la fotografia cosiddetta semplice è quella in cui non si individua un elemento creativo ha dei diritti da dei diritti al fotografo ma più limitati nel senso che da vent'anni la tutela della fotografia dura vent'anni dal momento dello scatto e passati vent'anni la fotografia diventa di pubblico dominio chiunque la può utilizzare anche commercialmente eccetera eccetera la fotografia poi è entrata invece nel 79 è stata emendata la legge sulla diritto d'autore e entrata a vino titolo come opera diciamo opera dell'ingegno protetta molto di più al pari delle altre opere dell'ingegno parliamo della letteratura della musica della cultura del cinema e in questo caso la tutela non è più di vent'anni dallo scatto ma è 70 anni dalla morte dell'autore quindi un diritto che poi fanno valere anche gli eredi dell'autore qual è la differenza il problema è che non c'è una differenza come dire netta e molto spesso questo da da adito a un sacco di di questioni perché specialmente per i professionisti avere un diritto che dura vent'anni dalla dallo scatto a velo 70 può cambiare liberamente la vita anche dal punto di vista economico patrimoniale perché una foto che poi è spesso pubblicata dopo vent'anni può più trarre profitto invece nella nel caso successo nel caso dei 70 anni sicuramente sì diciamo la creatività è uno di quegli elementi che impalpabile che può essere soggetta a un'interpretazione diversa e purtroppo chi decide se una foto creativa o meno è un soggetto che non è neanche un fotografo ma è un giudice nel senso che è il giudice che decide quando nasce una controversia su una fotografia se questa fotografia abbia o meno valore creativo qualcuno ha detto che c'è creatività dove solo dove c'è arte ma bagliando a mio modo di vedere e non solo al modo di vedere mio perché un conto se un'opera d'arte è sicuramente creativa non vale necessariamente il contrario un'opera può essere creativa e non espressione di un espressione artistica d'altra parte questo ci può portare anche dei paradossi perché se pensiamo agli strumenti oggi dati dalla tecnologia chiunque scatti una fotografia magari con un profilo vagamente artistico un tramonto magari gli mette un filtro di instagram eccetera ecco lì che ha già una foto cosiddetta creativo artistica mentre invece fior di professionisti che hanno fatto il loro lavoro magari nel campo del fotogiornalismo si trovano a dover subire le conseguenze di una perdita dei loro diritti dopo vent'anni c'è un caso molto famoso relativo alla foto di giovanni falcone e paolo borsellino fotografia scattata dal fotografo toni gentile che si trova dovunque in italia era una fotografia iconica che si trova riprodotta in mille e mille situazioni sui muri ce n'è una in un caserma dei carabinieri della polizia hanno fatto dei servizi di piatti addirittura c'è che si è fatto dei tatuaggi con quella fotografia e adesso uscirà una moneta da 2 euro con la riproduzione di quella foto e ebbè questa contro questa fotografia ha dato luogo alla controversia che si è conclusa purtroppo in secondo grado negativamente per l'autore in quanto è stata ritenuta che non avesse un carattere creativo e in qualche modo assimilando il fotogiornalismo ecco escludendo che una foto di fotogiornalismo potesse avere in se stesso valore creativo che naturalmente non è perché la creatività ci può essere o ci può non essere ma non dipende dalla funzione che viene svolta dalla fotografia se sia nel fotogiornalismo o meno e poi quindi queste interpretazioni sono quindi provengono da giudici che si portano dietro il loro bagaglio umano professionale culturale che varia da giudice a giudice varia anche nel tempo per cui spesso ci sono delle disparità di trattamento faccio un altro esempio c'è una foto per esempio la famosa foto di del barcone dei migranti di massimo sestini è una foto si vede questo barcone nel canale di sicilia pieno stipato di migranti presa dall'alto una foto fatta da un elicottero quindi anche in condizioni estremamente sfavorite è stato ritenuto da un tribunale che quella non fosse una foto creativa e da un altro tribunale che lo fosse quindi per dire la stessa foto da due giudici diversi due fori diversi ha dato luogo a due a due risultati opposti tanto è vero che io e ma non solo io abbiamo proposto insomma che ci fosse una modifica legislativa sotto questo profilo che scomparisse questa differenza che poi abbiamo sostanzialmente solo in italia tra foto semplice e foto creativa non trovi che in realtà in queste decisioni si prenda in considerazione per distinguere a quale categoria una fotografia appartenga si prende in considerazione solo l'aspetto dell'inquadratura cioè dell'immagine finale non si prende in considerazione quello che serve per arrivare a quell'immagine finale ad esempio nella foto di Tony Gentile la scelta del bianco e nero piuttosto che del colore ma anche la scelta di fotografare con quel taglio di luce con un'apertura di diaframma piuttosto che di un'altra cioè sono aspetti tecnici che non sono immediati e visibili ma che rendono giustizia ad una foto perché diventi una foto creativa tu non pensi che bisognerebbe fare in modo che chi deve decidere questo tipo di deve dare questo tipo di sentenza debba prendere in considerazione anche quegli aspetti che vanno al di là della semplice inquadratura assolutamente sì assolutamente sì diciamo la giurisprudenza in realtà aveva nucleato una serie di elementi spia non solo l'inquadratura ma anche che ne so la profondità di campo il taglio i colori la predisposizione di un set fotografico tutta una serie di elementi e anche molto interessante la ricerca perché se uno pensa per esempio alle fotografie di Luigi Ghirri del paesaggio italiano dei più grandi e giustamente celebrati fotografi prese una per una queste fotografie possono sembrare tra virgolette passatemi il termine banali possono sembrare delle foto veramente semplici in cui magari c'è una casa una bicicletta però voglio dire vabbè lì uno l'ha fotografata in realtà dietro la fotografia di Ghirri c'è una ricerca c'è una ricerca personale sul paesaggio italiano per cui bisogna capire anche la logica di una fotografia nel contesto in cui si va a collocare non è sufficiente prendere la fotografia in sé per sé e qui sono d'accordo con te occorre eliminarla questa questa differenza e soprattutto riconoscere il giusto giusti diritti a un fotografo per l'attività che nel momento in cui preleva qualcosa dalla realtà come dire catturandola attraverso il sensore o la pellicola c'è già un elemento creativo poi può essere anche artistico eventualmente però una creatività già c'è anche inconscia anche inconsapevole perché poi noi ci portiamo dietro un bagaglio anche inconsapevole che ci fa scattare certe foto non sappiamo neanche noi perché però però fa parte del di una creatività anche latente se vogliamo ma è sicuramente la creatività è latente io credo che una fotografia si componga di tre momenti nel momento in cui fai lo scatto uno è il gusto estetico quindi quella parte legata all'inquadratura l'altro è l'istinto quindi la capacità di accorgersi del momento che ci sta passando davanti e la terza è il vissuto personale nel momento in cui c'è del vissuto personale che ti porta ad avere una visione che altri magari non hanno pur essendo lì presenti questo sbaraglia il campo a quello che viene definito fotografia semplice è un po come chiamare un idraulico che viene a casa tua e con un semplice gesto della chiave ti aggiusta la caldaia che non funziona più da mesi e poi ti chiede 200 euro è il suo bagaglio non puoi dirgli hai fatto un lavoro semplice non gli puoi dire ero capace anch'io eri capace se sapevi dove toccare perché quello invece il bagaglio non è vero è vero assolutamente vero ok federico esistono i problemi dei professionisti ma esistono anche invece i problemi di coloro anzi dei professionisti dei fotografi ma esistono anche i problemi di coloro che si sentono parte di una fotografia pur non essendo i fotografi e sono i soggetti spesso si sente parlare della proprietà delle fotografie su facebook i problemi che si possono che possono derivare dal fatto di essere fotografati e di ritrovarsi in una pubblicazione in un libro in una fotografia oppure non proprio se stessi ma i propri figli quindi i bambini o la propria casa la proprietà puoi darci dei suggerimenti mettere un po d'ordine anche in questo aspetto certo certo intanto cominciamo col dire che il web insomma il mondo digitale ha mischiato un po tutte le carte e c'è anche per molti si ritiene che quello qualunque cosa che si trova sul web qualunque immagine sia di libero utilizzo in realtà non è affatto così le immagini anche se circolano sul web hanno una proprietà una paternità e adesso ci sono anche gli strumenti per capirlo per esempio google ovviamente che è il più diffuso motore di ricerca dà la possibilità in qualche modo di individuare fotografie se le fotografie sono libere da diritti o sono fotografie magari con una licenza adesso non vorrei andare sul tecnico ma le licenze creative commons sono le licenze che lo stesso fotografo con di cui le stesse concesse dallo stesso fotografo per gli utilizzatori secondo un criterio che è lui stesso a decidere cosa fare di quella foto quindi un primo problema è quello della di tutelare non solo i professionisti ma anche i foto amatori su nelle foto nel web gli strumenti ci sono perché essendoci dove c'è un diritto c'è un modo di tutelarlo certo non è sempre facile perché poi il web è di per sé stesso un mondo sfuggente ed è anche anche facile non è neanche facile individuare e dare la prova della titolarità di una foto però insomma ci sono degli strumenti ora non voglio entrare troppo sul tecnico l'altro punto a cui accennavi tu è il diritto dei dei soggetti fotografati diciamo dei e questo è un grande tema è il grande tema della fotografia di ritratto è perché ovviamente qui si contrappongono due diritti opposti il diritto del fotografo chiunque esso sia non deve essere un professionista che è un diritto costituzionalmente tutelato perché rifà riferimento all'articolo alla libertà di espressione alla libertà di manifestazione del pensiero quindi come uno ha la libertà di stampa come uno ha la libertà di scrivere di esprimersi con la parola scritta lo può fare ovviamente anche con la fotografia e quindi fare delle fotografie pubblicarle è un esercizio di un diritto costituzionale a fronte di questo diritto c'è anche però un altro diritto altri diritti che vi si possono contrapporre per esempio il diritto alla privacy il diritto alla tutela del soggetto ritratto ed è per questa ragione che la legge ancora la legge la legge del 41 stabilisce che in linea generale per pubblicare la foto di una persona non si parla di foto si parla di ritratto occorre il consenso quindi è quella che generalmente si chiama liberatoria quando assume la forma scritta ma non necessariamente deve avere forma scritta certamente se non ha forma scritta diventa a volte difficile dare la prova di aver avuto il consenso è chiaro che se io vado in un studio di un fotografo e mi faccio fotografare gli ho implicitamente dato un consenso questo non ci sono dubbi è più difficile in situazioni di street photography per esempio però al di là della regola del consenso la stessa legge prevede una serie di deroghe che sono molto importanti perché sennò non si riuscirebbe onestamente a fare quasi nulla perché in molte situazioni anzi nella maggioranza delle situazioni è impossibile ottenere anche materialmente il consenso e spesso consenso scritto da parte del soggetto ci sono una serie di regole legate per esempio alla notorietà della persona per cui se la persona è nota un attore un politico un cantante un personaggio pubblico in generale può essere liberamente scattata la foto e pubblicata faccio una parentesi ciò che rileva non è tanto lo scatto in sé lo scatto in sé è sempre lecito è l'utilizzo che si fa dello scatto della fotografia cioè il momento della pubblicazione quindi se uno la tiene per sé la question può sono essere porsi delle questioni quando la foto è pubblicata e quindi la fotografia per esempio di un personaggio pubblico e vedete che si capisce anche per esigenze di cronaca no di critica di cronaca poi ci sono altre esigenze per esempio di polizia no quando vedete un identikit viene diffuso di un soggetto oppure il ritratto di una persona che è stata rapita per dire sono sono deroghe perché si possono si possono pubblicare per ragioni di polizia ci sono altre deroghe ancora più importanti per chi fa l'attività diciamo del fotografo che sono per esempio le esigenze di carattere culturale scientifico didattico allora in quel caso il confine può essere più sottile ma la fotografia di ritratto a certe caratteristiche anche senza la l'autorizzazione può essere può essere pubblicata ovviamente ogni caso va visto è diverso dall'altro per cui non si può dare una regola generale quello che si può dire è che in ogni caso bisogna fare un utilizzo commerciale di queste foto senza la liberatoria perché allora ci portiamo veramente dietro dei problemi perché specialmente se la foto è di una persona nota perché le persone note utilizzano la loro immagine per trarne un utile quello che gli americani chiamano right of publicity uno utilizza la propria immagine per fare della pubblicità per cui se la utilizziamo senza autorizzazione ci portiamo dietro dei grossi problemi ma anche per le persone non note ecco altro elemento di cui tenere conto è che non ci sia comunque pregiudizio per la persona quindi il ritratto deve essere il ritratto di una persona non in condizioni di sofferenza o in condizioni pregiudizievoli per la sua identità personale volevo chiederti quando è che il diritto di cronaca termina di esistere faccio un esempio molto concreto se io sono ad una manifestazione dico politica perché l'appartenenza politica è un dato sensibile immagino della persona qual è il momento in cui il diritto di cronaca va oltre alla mia legittima possibilità di non far sapere qual è la mia appartenenza politica nel momento in cui io vengo fotografato ed una manifestazione pubblica e poi pubblicato su un giornale io ho dei diritti che posso avanzare se uno partecipa a una manifestazione pubblica il fatto dichiara la propria appartenenza per cui sotto quel profilo non c'è una tutela a meno che ripeto durante la manifestazione ecco faccio un esempio uno partecipa una manifestazione pubblica sfilando con un manifesto in mano oppure partecipa in situazioni o magari in situazioni che come dire sono pregiudizievoli per la sua dignità oppure allora in quel caso ci può essere la possibilità di arrestare la pubblicazione o di lamentarsi se no se uno va a una pubblica manifestazione sia essa politica sindacale o addirittura pensiamo il pride i pride nei pride vanno persone che manifestano ostentatamente e volutamente la loro identità sessuale e tu come tu sai l'identità sessuale è uno dei dati personali che si chiamavano sensibili una volta adesso comunque ecco però in quel caso c'è il soggetto che si mette automaticamente si mette lui nella condizione di volersi fare riprendere quindi in qualche modo la pubblicazione poi è lecita poi bisogna stare attenti a proposito del diritto di cronaca quello che perché occorre che ci sia un interesse pubblico alla pubblicazione no per cui occorre che l'interesse pubblico sia effettivo e non va di va distinto da interesse pubblico da quello che è interessante per il pubblico perché il pubblico può essere interessato anche a come dire delle dei particolari eh originosi della vita del soggetto che però non sono rilevanti dal punto di vista di interesse pubblico quindi questa è una differenza molto sottile per cui per esempio anche una persona nota eh in ambito privato è tutelato cioè non si può andare oltre il limite della sua sfera pubblica eh perché se no andiamo a incidere veramente nella privacy e anche le persone pubbliche hanno una loro privacy quindi il limite è un po' quello ma ripeto poi va visto caso per caso ci sono stati casi in cui anche la persona pubblica in un ambiente privato ehm la pubblicazione di quell'immagine è stata giudicata lecita ma perché c'era un interesse particolare adesso eh posso anche fare il caso era il caso in cui il presidente Cossiga era andato a un matrimonio di un ex terrorista quindi la foto presa all'interno di una chiesa quindi in un luogo privato in una cerimonia privata ma era stato giudicato dal giudice interessante che Cossiga presidente già ministro dell'interno durante gli anni del terrorismo che era considerato il nemico come dire giurato dei terroristi andasse al matrimonio di un terrorista dopo ovviamente aver scontato la sua pena ecco questo quindi un luogo privato però ha un'aderenza con un interesse giudicato pubblico da un giudice poi un altro giudice poteva anche pensarla diversamente ecco ma per fare un esempio di questo. Stiamo per arrivare al termine della nostra chiacchierata e ti faccio la domanda quella che ti fanno probabilmente tutti quando presenti anche il tuo libro vai ai tuoi incontri ma le foto che pubblico su facebook diventano di proprietà di facebook? Assolutamente no noi diamo bisognerebbe poi leggere le condizioni generali di contratto di facebook come di instagram come tutti dei social perché è scritto in realtà però noi con facebook diamo una licenza di utilizzo di queste foto alla piattaforma facebook ma è una licenza cioè noi restiamo noi titolari di quella foto per cui non si può preve prelevare una fotografia da facebook e metterla da un'altra parte quello che però si può fare è prendere il link dove della mia pagina facebook cioè linkare la mia pagina facebook in un altro contesto quindi in quel caso chi va a vedere quella foto si collega la mia pagina facebook quindi e questo vale anche per instagram che poi c'è instagram c'è anche il profilo privato il profilo pubblico però noi con facebook diamo una licenza non esclusiva che significa che noi la stessa foto possiamo darla ad altri social network o farne l'utilizzo che meglio crediamo di fare alla piattaforma di facebook ma assolutamente non non perdiamo il diritto su quella fotografia si tratta poi di tutelarlo il che non è facile sempre ti ringrazio abbiamo toccato tanti argomenti su cui potremo stare a parlare per ore ma magari ci ritroviamo in un'altra occasione magari chi lo sa in un'altra serie di foto chi scatta ti ringrazio della partecipazione delle informazioni che ci hai dato e speriamo di arrivederci al più presto intanto ti saluto e grazie grazie a voi dell'invito arrivederci una cosa è certa da quello che abbiamo capito nella nostra chiacchierata con l'avvocato montaldo certezze non ce ne sono quello che per alcuni sono fotografie semplici per altre sono foto per altri sono fotografie creative le due cose non hanno dei confini ben delimitati e questo genera genera confusione personalmente credo come dicevamo prima che si tenga poco conto quando si realizza una fotografia di quanto vissuto personale ci sia dietro di un'immagine e basti pensare a questo per capire che le foto possono essere tutte creative perché nascono da un filo che parte da lontano se ci limitiamo a immaginare una fotografia per la sola inquadratura molto probabilmente ne svigliamo anche il suo valore ritorniamo a quelle fotocopie di cui parlavamo nella seconda puntata con l'ospite marta carelli è strano come in un mondo in cui le immagini vengono prodotte in grandissima quantità abbiamo sentito prima con l'avvocato montaldo i numeri anche piuttosto impressionanti che ci ha che ci ha fornito sul numero di foto che vengono scattate nell'arco di una giornata e come il malgrado questo il diritto sia ancora così poco 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 chiaro ci ha anche raccontato come si vive una fotografia dalla parte dei dei soggetti ci ha dato delle informazioni utili su chi detiene la proprietà delle fotografie quando vengono pubblicate sui social insomma abbiamo visto un quadro della fotografia che ci fa stare tranquilli se siamo dei fruitori delle immagini fotografiche ma ci preoccupano un po' se siamo dei fotografi professionisti o amatori che sia non siamo così tutelati come vorremmo che fosse per chi produce immagini artistiche perché alla fine la fotografia non dimentichiamocelo è sempre una forma d'arte siamo giunti al termine di foto chi scatta nella prossima puntata parleremo di bambini con un fotografo che dei bambini e della fotografia di bambini non ci ha fatto solo una professione ma anche una missione foto chi scatta ci vediamo la prossima volta ciao ciao